quello che sto per presentarti è l'ideale per chi non si accontenta di un normale appartamento al monte ma vuole qualcosa in più qui estetica spazio e funzionalità si fondono in un unico elemento regalandoti una casa elegante ed esclusiva guarda il video iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti